Il museo si fa spazio a Parco. È stata inaugurata sabato scorso la mostra Arte per tre generazioni, che offre una rilettura a tutto campo delle collezioni d'arte moderna e contemporanea della città di Pordenone, la curatrice della mostra Isabella Reale. È un percorso attraverso le collezioni dei musei d'arte, in particolare la sezione d'arte contemporanea, tre generazioni, come dire, dalla post-unità d'Italia, tre testimonial che si passano le consegne nel campo del mecenatismo, nel campo dell'arte e per dare forma a quella che è la realtà delle collezioni attuali. Abbiamo ricatalogato, abbiamo rispolverato e adesso sono qui a segnare proprio questo percorso storico. All'inaugurazione rappresenta anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. C'è un doppio motivo per essere felici, credo, come Pordenone, per aver riscoperto ancora toccando con mano quello che è il nostro patrimonio, ma dall'altro anche di avere un'ulteriore prova che la strada che abbiamo imboccato, in un momento che sappiamo è difficile, non per questo non ci porta ad avere dei momenti di qualità a Pordenone. È iniziata anche la tradizionale manifestazione estiva Estate in Città 2012, con un concerto inaugurale svoltosi al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, vedendo salire sul palco la FFUG imite l'Europa Orchestra, diretta dal maestro Eddie De Nadai. È un momento importante perché stiamo per inaugurare questa Estate in Città che ha avuto un canovaccio diverso dal punto di vista della presentazione e dello svolgimento futuro. Il Teatro Verdi è il cuore della città, è il punto d'incontro, è il nostro salotto buono, nel momento in cui si vuole festeggiare qualche cosa noi ci teniamo ad utilizzarlo. Siamo contenti, felici che ancora una volta possiamo dire alla città di Pordenone divertiamoci, le persone che restino qui vengano e vedano la qualità di cose che abbiamo garantito, nonostante i tagli che abbiamo fatto, perché vi divertirete, ci divertiremo insieme e sarà un momento per vivere la città in una dimensione diversa.